L'incendio che venerdì scorso ha devastato la zona di Pierderici sarebbe scaturito da un lotto intercluso non bonificato dunque di proprietà privata. Lo sostengono gli agenti del Corpo Forestale dello Stato che nelle scorse ore hanno depositato un'apposita relazione nei confronti degli inquirenti. Se gli accertamenti troveranno conferma saremo di fronte al primo risultato concreto scaturito dal coordinamento investigativo voluto nei mesi scorsi dal Procuratore della Repubblica Roberta Buzzolani. coordinamento investigativo teso ad individuare precise responsabilità rispetto a condizioni quelle riguardanti gli incendi che di anno in anno si ripetono più o meno impunemente. Potrebbe scattare dunque la denuncia nei confronti del proprietario di quell'appezzamento di terreno. Un incendio, lo ricordiamo, che si è propagato in pochi minuti seminando il panico tra i residenti, soprattutto nella zona di via Emilio Ravasio. Diversi residenti sono stati costretti ad abbandonare momentaneamente le loro abitazioni. Non ci sono novità sostanziali invece per quanto riguarda l'altro incendio, quello di giovedì, quello che ha lambito le case di località Sovareto. Gli accertamenti comunque sono tuttora in corso. Situazione è quella degli incendi sul territorio di Sciacca in quello circostante che intanto sembra aver dato una tregua. Nelle ultime 48 ore infatti gli interventi richiesti ai vigili del fuoco del distaccamento saccenze sono stati pochi e comunque per situazione tutto sommato poco critiche. Nel frattempo continua l'indagine nei confronti dell'anziano che domenica mattina è stato fermato mentre, hanno riferito i carabinieri, stava appiccando il fuoco a delle sterpaglie nella zona delle Terme. Stamattina l'uomo è stato interrogato. Agli arresti domiciliari dove si trova non trapelano indiscrezione anche se pare che non sia stato ancora in grado di chiarire le ragioni del proprio comportamento. Una situazione è quella degli incendi che continua dunque a generare ansia anche se le temperature nelle ultime ore hanno subito un significativo calo che può sicuramente impedire una propagazione più ampia delle eventuali fiamme. Rimane sul tappeto la questione riguardante la presenza dei piromani sul territorio e perfino sui sospetti di presunti interessi economici che si muoverebbero dietro gli stessi incendi. I lotti di proprietà privata comunque vanno puliti e quanto impone un'ordinanza del Comune la cui applicazione evidentemente necessiterà di un superiore controllo preventivo.